Tanti di voi mi hanno spesso detto di avere difficoltà nell'ascolto delle audioletture dovuto al fatto che insomma io vorrei ascoltarle ma YouTube non mi dà la possibilità di ascoltarle e fare altro con il mio smartphone quando io magari avrei bisogno in effetti di fare altro beh è un piccolo trucchetto per voi allora come abbiamo detto quando noi apriamo YouTube mettiamo per esempio una canzone la canzone parte subito ma appena utilizziamo lo smartphone per fare qualunque altra cosa ci ritroviamo quella con la canzone che si blocca ecco un piccolo trucco andiamo ad aprire Google Chrome ovviamente dopodiché andiamo a digitare nella barra delle ricerche YouTube e quando lo troviamo tenete premuto sopra la scritta YouTube e vi apparirà questo elenco voi andate su apri come anteprima a quel punto digitate il titolo della canzone che volete ascoltare o dell'audiolettura che volete ascoltare la fate partire e magicamente potrete utilizzare lo smartphone per fare tutto quello che volete invece per tutti gli amanti del podcast non perdetevi su Spotify Telebabby il podcast che parla di cultura pop serie tv film e libri in uno stile molto ironico e divertente ogni puntata viene caricata di solito il mercoledì salvo delle situazioni speciali ovviamente le puntate vengono ricaricate con molto ritardo anche su YouTube sì non posso sempre iniziare io però qualcuno dovrà dire qualcosa c'è un piatto c'è un piatto che ti fa fare un sacco di pipì il cocomero un piatto di cocomero quelli che fanno la pipì che puzza com'è che si chiamano gli asparagi o il piatto di plastica c'è un piatto ha detto non un alimento che ti fa fare la pipì quindi tu mangi il piatto di plastica per fare la pipì come hai posto la domanda c'è ragione c'è una pietanza che ti fa venire un sacco di pipì quella è la maggior parte della frutta perché sono molto composti da acqua il cocomero a me succede col tè al limone non è una pietanza è una bibita è una bevanda stupido deficiente oppure tutte le bevande ti fanno fare tanta pipì stupido deficiente no è meraviglio che non resta perché ha incontrato una ragazza di cui si è follemente innamorato c'è la ragazza che ha sempre amato quando era ragazzina quando era adolescente che poi ha lasciato e che tornando trova ancora bella come il primo è libera no non è libera con venti figli no 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 deve sposarsi ma chissà se si sposerà o dovrebbe sposarsi il mio anziano tenta di dormire poi sente madonna santa tu senti questi rumori che angoscia e lui quindi è lì che cerca cerca per la casa c'è qualcuno maledetti vicino non c'è nessuno non ha vicini è una casa unica tutta sua ma quel cazzo che cerco io me ne vado via gambe levate madonna santa ogni notte poi a un certo punto mentre è lì da solo in una casa da solo lontano da tutti se c'è una cazzo di palla di plastica per bambini che rotola giù dalle scale che rotola giù dalle scale mi stanno vedendo i brividi e arriva e lui non ne può più perché è la seconda volta che questa palla scende giù la cosa fa la prende se ne va via e la butta praticamente da un fiume te lo foro sto pallone torna indietro a casa apre la porta no la palla bagnata tom e questa palla è ancora lì una mucca va da un'altra mucca e gli fa mai sentito di quella di quel virus che sta girando tra quelli della nostra specie la chiamano la mucca pazza l'altra si gira e gli fa ma che cazzo ne so io sono un cavallo chiediamo scusa a tutti gli ascoltatori per quello che è stato sempre questo momento ma tu le vedi? no più che altro il fatto che Morena ti spiega più cose si capiscono tante dinamiche che non funzionano ho risoperto molto meglio ti ricordi quella della peco? basta non c'è bisogno di fare adesso tutto l'enciclopedia degli animali con le battute spettiamola pensate che questa la puntata pilota la puntata pilota ah guida si ha preso 4,9 stelle perdonatemi se faccio questa intro un po' smr ma ho bisogno di capire se si sente anche quando parlo piano o se dai problemi ieri sera quindi fra un po' dovrò riascoltarmi ti devo capire se funziona o no ok ok si sente si sente bene a sto giro va bene va bene va bene va bene allora ieri sera abbiamo avuto dei problemi quindi non siamo riusciti a leggere il capitolo numero 11 quest'oggi quest'oggi dovremmo farcela quindi ripetiamo il capitolo numero 11 per qualsiasi cosa magari tengo con un occhio la chat scrivetemi se non si dovesse sentire se ci sono dei problemi detto questo vi ringrazio e vi auguro una buona lettura eclips di stefanie meyer capitolo 11 leggende lo mangi o no quel panino chiese pull a jacob con gli occhi fissi sui resti del banchetto che i licantropi avevano appena consumato jacob si appoggiò alle mie ginocchia e si mise a giocare con un hot dog infilzato nel metallo di una gruccia riadattata a spiedino le fiamme del palò lambivano la pelle rigonfia del viosser sospirò e si massaggiò lo stomaco chissà come era ancora piatto nonostante avessi perso il conto di quanti panini aveva ingurgitato dopo il decimo per non parlare della busta di patatine giganti e della bottiglia di birra da due litri credo di sì disse jake lentamente sono così sazio che sto per vomitare ma penso di riuscire a farlo scendere non me lo godrò per niente però sospira di nuovo triste pull che ne aveva mangiati tanti quanto jacob strinse i pugni e lo guardò a torvo e dai jacob rise sto scherzando pull ecco qui buttò in mezzo al cerchio formato da noi lo spiedino fatto in casa mi aspettavo che si infilzasse dritto nella sabbia ma senza alcuna difficoltà paul lo afferrò con precisione dal verso giusto a furia di frequentare solo persone con abilità straordinarie rischiavo di farmi venire dei complessi grazie fratello disse paul che aveva già superato il breve momento dire il fuoco che preta crepitava e pian piano si abbassò le scintille scoppiavano veloci come bolle color arancione brillante sullo sfondo del cielo nero non mi ero neppure accorta che il sole era tramontato doveva essere tardi ma non sapevo che ora fosse avevo perso completamente il senso del tempo stare insieme ai miei amici chiliut era più semplice di quanto mi aspettassi mentre jacob e io portavamo la mia moto in garage e lui aveva ammesso con rammarico che quella del casco era una buona idea a cui avrebbe dovuto pensare prima avevo iniziato a preoccuparmi per la serata chissà forse i licantropi mi avrebbero considerato una traditrice si sarebbero arrabbiati con jacob per avermi invitata avrei rovinato la testa ma quando spuntai con jacob dalla foresta e raggiunsi il luogo dell'incontro in cima alla scogliera il fuoco rugiva già il luminoso del sole oscurato dalle nuvole tutto divenne molto semplice e informale ehi ragazza vampiro! mi aveva salutato squillante Embry Quill era saltato in piedi per darmi il 5 e baciarmi sulla guancia Emily mi aveva preso la mano quando ci eravamo sedute sulla pietra fredda accanto a lei e Sam a parte qualche lamento provocatorio più che altro di Paul perché si tenesse sotto vento la puzza di succhia sangue tutti mi trattavano come una di loro non c'erano solo i ragazzi ad attendermi anche Billy era lì con la sedia a rotelle posizionata su quella che sembrava la testa naturale del cerchio accanto a lui su un asdraio pieghevole c'era l'anziano bianchissimo nonno di Quill che si chiamava come lui aveva un aspetto fragile e rugoso al suo fianco Sue Clearwater la vedova di Harry l'amico di Charlie insieme ai suoi due figli Leah e Seth seduti per terra come noi vedere i tre mi sorprese allora dovevano essere al corrente del segreto dal modo in cui Billy e il vecchio Quill parlavano con Sue sembrava che lei avesse rimpiattato Harry nel consiglio questo rendeva automaticamente anche i suoi figli membri della società più segreta di La Push chissà che cosa terribile doveva essere per Leah sedersi in cerchio di fronte a Sam ed Emily il suo viso grazioso non tradiva alcuna emozione ma non staccava mai lo sguardo dalle fiamme ne osservai la perfezione del volto e non potei evitare di confrontarla con il volto sfregiato di Emily cosa pensava Leah di quelle cicatrici ora che ne conosceva la vera causa ai suoi occhi sembrava un atto di giustizia il piccolo Seth Clearwater non era più così piccolo con il suo sorriso ampio e gioioso e il corpo snello e slanciato mi ricordava molto Jacob da ragazzino la somiglianza mi fece sorridere e sospirare anche Seth era condannato a veder cambiare la sua vita drasticamente come gli altri ragazzi era forse per quel futuro che lui e la sua famiglia si ritrovavano a partecipare alla serata c'era tutto il branco Sam con la sua Emily, Paul, Embry, Quill e Jared con Kim, la ragazza del suo imprinting di primo acchitto Kim mi sembrò gentile un po' timida, quasi anonima aveva il viso largo, gli zigomi pronunciati e occhi troppo piccoli per compensarli anche il naso e la bocca erano troppo larghi rispetto ai canoni tradizionali di bellezza i capelli neri e lisci erano sottili e scompigliati dal vento che non smetteva di soffiare in cima alla scogliera quella era stata la prima impressione ma dopo aver osservato per qualche ora le occhiate che le riservava Jared non riuscì a trovare più niente di insignificante in lei come la guardava era come un cieco che vedeva il sole per la prima volta come un collezionista che scopre un Leonardo sconosciuto come una madre che guarda negli occhi il figlio appena nato gli occhi meravigliati di lui mi fecero scoprire nuovi dettagli la pelle di Kim era alla luce del fuoco sembrava seta color mattone la forma delle sue labbra era una perfetta doppia curva i denti erano bianchissimi e le ciglia lunghissime le sfioravano le guance se abbassavano lo sguardo la pelle di Kim si faceva più scura quando incontrava lo sguardo di venerazione di Jared i suoi occhi si abbassavano per l'imbarazzo ma non le riusciva facile distogliere a lungo l'attenzione da lui osservandoli sentii di capire meglio quel che Jacob mi aveva detto dell'imprinting è difficile resistere a un tale livello di coinvolgimento e adorazione Kim era appoggiata contro il petto di Jared che la cingeva con un braccio chissà come stava al caldo in quella posizione si sta facendo tardi mormorai a Jacob non cominciare mi sussurrò in risposta anche se di sicuro almeno metà del gruppo aveva un udito tanto sensibile da sentirci la parte migliore sta per arrivare e cosa sarebbe? tu che divori una mucca in un sol boccone? Jacob ghignò con il suo riso basso e rauco no, quello è il finale non ci siamo incontrati solo per ingozzarci di cibo tecnicamente questa è una riunione del consiglio per Quill è la prima volta non ha ancora sentito le nostre storie beh le ha sentite ma oggi per la prima volta saprà che sono vere perciò vi starà più attento anche per Kim, Seth e Leah è la prima volta storie ero appoggiata contro una bassa cresta di roccia e Jacob scivolò all'indietro per avvicinarsi mi cinse la spalla con il braccio e mi parlò ancora più pieno dall'orecchio quelle che abbiamo sempre pensato fossero leggende disse le storie su come siamo nati la prima narra degli spiriti guerrieri il morbido sussurro di Jacob aveva fatto da introduzione attorno al fuoco basso di colpo l'atmosfera cambiò Paul ed Embry si alzarono in piedi Jared prese Kim e la sollevò gentilmente da terra Emily tirò fuori un quaderno a spirale e una penna come una lunna pronta per una lezione importante Sam accanto a lei si mosse quel tanto da guardare nella stessa direzione del vecchio Kill seduto al suo fianco e all'improvviso capì che gli anziani del consiglio non erano tre ma quattro lì a Clearwater il cui viso era una splendida maschera priva di emozioni chiuse gli occhi non per stanchezza ma per concentrarsi suo fratello si sporse di più verso gli anziani entusiasta il fuoco scoppiettò e un'altra esplosione di scintille brillò nella notte Billy si schierì la voce e senza alcuna introduzione a parte il sussurro di suo figlio cominciò a raccontare con voce ricca e profonda le parole uscivano precise come se le conoscesse a memoria ma anche con sentimento e ritmo sottile come una poesia recitata dal suo autore fin dagli inizi i chiliut erano un piccolo popolo disse Billy e siamo ancora un piccolo popolo ma non siamo mai scomparsi questo perché nel nostro sangue c'è sempre stato un potere magico non è sempre stato il potere di cambiare forma quello è venuto dopo all'inizio eravamo spiriti guerrieri non avevo mai notato il tono maestoso della voce di Billy Black ma in quel momento mi resi conto dell'autorità che da sempre esercitava la pena di Emily si muoveva velocissima sul foglio cercando di stargli al passo all'inizio la tribù si stabilì in questo golfo e divenimmo abili pescatori e costruttori di barche ma la tribù era piccola e il golfo ricco di pesce altri desideravano la nostra terra ma noi troppo pochi per difenderla una tribù più numerosa ci attaccò e noi ricorremmo alle nostre barche per scappare Kaelea non fu il primo spirito guerriero ma non ricordiamo le storie che la precedono non ricordiamo chi fu il primo a scoprire questo potere o se esso fosse stato già usato nella nostra storia Kaelea è stato il primo grande spirito supremo e in quel terribile frangente usò la magia per difendere la nostra terra lui e i guerrieri lanciarono la barca non con il corpo ma con lo spirito le loro donne vegliarono sui corpi e sulle onde mentre gli spiriti degli uomini tornavano al golfo non potevano toccare la tribù nemica ma avevano altre risorse le storie ci narrano che potevano soffiare i poderosi venti negli accappamenti nemici nel vento potevano sollevare urla terribili per spaventare i rivali le storie ci narrano anche che gli animali potevano vedere gli spiriti guerrieri e che li capivano gli animali erano dalla loro parte Kaelea guidò il suo esercito di spiriti e seminò distruzione tra gli aggressori la tribù di invasori aveva branchi di cani enormi dal pelo foltissimo che trainavano le loro slitte tra i ghiacci del nord gli spiriti guerrieri fecero rivoltare i cani contro i loro padroni poi scatenarono una tremenda invasione di pipistrelli evocandoli dalle cavità della scogliera usarono l'urlo dei venti per aiutare i cani a confondere gli uomini i cani e i pipistrelli vinsero i superstiti fuggirono gridando che il nostro golfo era un luogo maledetto quando gli spiriti guerrieri li liberarono i cani tornarono alla vita selvaggia i Kiliut raggiunsero i propri corpi e le proprie mogli vittoriosi le altre tribù vicine gli Oh e i Maha strinsero un patto con i Kiliut non volevano avere niente a che fare con la nostra magia vivemmo in pace con loro quando un nemico provava ad attaccarci gli spiriti guerrieri lo scacciavano trascorsero diverse generazioni poi arrivò l'ultimo spirito supremo Taha Aki era celebre per la sua saggezza e la sua indole pacifica la gente viveva felice e serena sotto la sua protezione ma c'era un uomo Outlapa che non era sereno un sibilo cupo corse attorno al fuoco non fece in tempo a vedere da dove arrivava Billy lo ignorò e proseguì con la leggenda Outlapa era uno dei più forti spiriti guerrieri del supremo Taha Aki un uomo molto potente ma anche molto avido pensava che il nostro popolo dovesse usare la magia per espandere il proprio territorio per rendere schiavi gli Oh e i Maha e costruire un impero ora quando i guerrieri erano nei loro spiriti potevano leggere ognuno i pensieri dell'altro Taha Aki vide quali erano i sogni di Outlapa e si adirò con lui Outlapa ricevette l'ordine di lasciare la tribù e di non usare mai più il suo spirito Outlapa era un uomo forte ma i guerrieri del supremo erano in gran numero non ebbe altra scelta che andarsene furioso l'uomo si nascose nella foresta vicina in attesa dell'occasione per vendicarsi sul supremo anche in tempo di pace lo spirito supremo vigilava per proteggere la sua gente spesso andava in un luogo segreto tra le montagne lasciava il suo corpo lì e scendeva attraverso le foreste e lungo la costa per allontanare le minacce un giorno che Taha Aki partì per compiere il suo davere Outlapa lo seguì all'inizio Outlapa pensò semplicemente di ucciderlo ma questo piano presentava degli svantaggi di sicuro gli spiriti guerrieri avrebbero cercato di distruggerlo ed erano in grado di seguirlo più veloci di quanto lui non potesse scappare mentre si nascondeva fra le rocce e osservava il supremo prepararsi a lasciare il suo corpo gli viene in mente un altro piano Taha Aki lasciò il suo corpo nel luogo segreto e volò con il vento per vegliare sulla sua gente Outlapa aspettò finché non fu sicuro che lo spirito del supremo si fosse allontanato abbastanza quando Outlapa lo raggiunse nel mondo degli spiriti Taha Aki se ne accorse subito e intuì anche il suo piano omicida tornò rapido al luogo segreto ma neanche i venti furono così veloci da salvarlo al suo arrivo il suo corpo era già sparito e il corpo di Outlapa giaceva abbandonato ma Outlapa non aveva lasciato a Taha Aki vie di fuga Outlapa aveva sgozzato il proprio corpo con le mani di Taha Aki Taha Aki seguì il suo corpo lungo la montagna urlò a Outlapa ma Outlapa lo ignorò come se fosse il vento disperato Taha Aki vide Outlapa prendere il suo posto come capo dei Kiliota per qualche settimana Outlapa non fece altro che assicurarsi che tutti lo credessero il vero Taha Aki poi le cose iniziarono a cambiare e il primo editto di Outlapa fu impedire a ogni guerriero di entrare nel mondo degli spiriti dichiarò di aver avuto una visione un presagio ma in realtà aveva paura sembrava che Taha Aki avrebbe atteso quell'occasione per raccontare la verità inoltre Outlapa stesso aveva paura di entrare nel mondo degli spiriti perché sapeva che Taha Aki avrebbe subito reclamato il proprio corpo così i suoi desideri di conquista grazie all'esercito degli spiriti guerrieri divennero irrealizzabili e cercò di accontentarsi del potere che aveva sulla tribù divenne un parasseta pretese privilegi che Taha Aki non aveva mai reclamato si rifiutò di lavorare con i suoi guerrieri ebbe una seconda moglie più giovane di lui e poi una terza malgrado la prima fosse ancora viva cos'è inaudita per la tribù? Taha Aki osservava furioso ma impotente alla fine Taha Aki provò a uccidere il proprio corpo per salvare la tribù dagli eccessi di Outlapa fece scendere un lupo feroce dalle montagne ma Outlapa si nascose dietro i suoi guerrieri quando il lupo uccise un giovane che cercava di proteggere il capo impostore Taha Aki si sentì devastare dal dolore prodinò al lupo di andarsene le storie narrano che non era facile essere spirito guerriero liberarsi del proprio corpo era più spaventoso che esaltante ecco perché quel potere veniva usato solo in caso di necessità i viaggi solitari di perlustrazione del capo tribù erano uno sforzo e un sacrificio essere senza corpo turbava era scomodo orribile Taha Aki era stato lontano dal suo corpo così a lungo che ormai viveva nei tormenti si sentiva condannato non avrebbe mai potuto attraversare l'ultima terra dove i suoi antenati lo aspettavano sarebbe rimasto bloccato per sempre nello strazio di quel nulla il grande lupo seguì lo spirito di Taha Aki nei boschi mentre si contorceva fra i tormenti il lupo era molto grande per la sua razza e bellissimo all'improvviso Taha Aki si sentì invidioso dell'animale non sapeva parlare ma almeno aveva un corpo una vita persino vivere d'animale sarebbe stato meglio di quell'orribile coscienza incorporea così Taha Aki ebbe l'idea che ha cambiato il destino di tutti noi chiese al grande lupo di fargli spazio nel suo corpo di dividerlo con lui il lupo acconsentì Taha Aki entrò nel corpo del lupo con sollievo e gratitudine non era il suo corpo umano ma era meglio del vuoto del mondo degli spiriti ormai divenuti una cosa sola l'uomo e il lupo tornarono al villaggio sul golfo la gente scappò impaurita invocando l'arrivo dei guerrieri che accorsero per colpire il lupo con le loro lance Utlapa ovviamente rimase ben nascosto al sicuro Taha Aki non attaccò i propri guerrieri si ritirò lentamente parlando loro con gli occhi e cercando di guaiere le canzoni del suo popolo i guerrieri iniziarono a capire che quel lupo non era un animale qualunque era sotto l'influenza di uno spirito uno dei guerrieri più anziani un uomo di nome Ut decise di disobbedire all'ordine del capo impostore e provò a comunicare con il lupo non appena Ut ebbe fatto ingresso nel mondo degli spiriti da Aki lasciò il lupo in docile attesa del suo ritorno per parlare con lui in un attimo Ut comprese la verità e salutò il ritorno del suo vero capo supremo in quel momento arrivò Utlapa per vedere se il lupo era stato sconfitto quando vedi il corpo di Yut giacere a terra senza vita protetto dagli altri guerrieri capì cosa era accaduto sfoderò il coltello e si affrettò a uccidere Yut prima che potesse tornare al suo corpo Raditore! gridò mentre i guerrieri non sapevano cosa fare il capo aveva stabilito che era proibito tornare nel mondo degli spiriti aspettava a lui decidere come punire i trasgressori Yut saltò di nuovo nel suo corpo ma Utlapa gli puntava già il coltello alla gola e con una mano gli copriva la bocca il corpo di Taa Aki era forte mentre Yut era già avanti con gli anni Yut non ebbe il tempo di dire neanche una parola per avvisare gli altri perché Utlapa lo ridusse per sempre al silenzio Taa Aki fide lo spirito di Yut entrare in quelle ultime terre che a lui erano bandite per l'eternità provò una grande rabbia più intensa di qualsiasi sensazione che avesse mai provato entrò di nuovo nel corpo del grande lupo deciso a sgozzare Utlapa non appena fu di nuovo dentro al lupo avvenne la grande magia la rabbia di Taa Aki era la rabbia di un uomo l'amore che provava per la sua gente e l'odio contro il suo oppressore erano troppo vasti troppo umani per il corpo del lupo il lupo iniziò a tremare davanti agli occhi sconvolti dei guerrieri di Utlapa si trasformò in un uomo il nuovo uomo non somigliava a Taa Aki era molto più grande era l'incarnazione terrena dello spirito di Taa Aki tuttavia i guerrieri lo riconobbero all'istante perché aveva volato con lui in forma di spirito Utlapa provò a scappare ma nel suo nuovo corpo Taa Aki possedeva la forza del lupo afferrò l'impostore e ne distrusse lo spirito prima che potesse uscire dal corpo rubato una volta capito che cosa era successo la gente si rallegrò Taa Aki rimise velocemente le cose a posto tornando a lavorare con il suo popolo restituendo le giovani spose alle loro famiglie l'unico cambiamento che mantenne in vigore fu la fine dei viaggi nella terra degli spiriti ora che la possibilità di rubare una vita ad altri si era fatta concreta egli sapeva che quei viaggi erano troppo pericolosi gli spiriti guerrieri scomparvero per sempre da quel momento Taa Aki fu più di un semplice uomo e più di un lupo fu battezzato Taa Aki il grande lupo o Taa Aki l'uomo spirito guidò la tribù per molti molti anni senza più invecchiare quando un pericolo si avvicinava assumeva l'identità di lupo per combattere o spaventare il nemico la gente visse in pace Taa Aki fu padre di molti figli e alcuni di questi divenuti adulti scoprirono che anch'essi potevano trasformarsi in lupi i lupi erano tutti diversi l'uno dall'altro poiché erano spiriti e riflettevano l'uomo che c'era dentro di loro ah ecco perché sem è tutto nero bofonchiò qui il sottovoce ridendo cuore nero pelo nero ero così presa dalla storia che rimasi scossa nel tornare al presente al cerchio attorno al fuoco morente e con altrettanto turbamento mi resi conto che attorno al cerchio erano riuniti i pronipoti di chissà quanti gradi di Taa Aki il fuoco lanciò una scarica di scintille in cielo che tremarono e danzarono componendo forme quasi indecifrabili il tuo pelo color cioccolato cosa rappresenta? sussurrò Sam in risposta a Quill quanto sei dolce? Billy ignorò la schermaglia alcuni dei figli divennero guerrieri insieme a Taa Aki e non invecchiarono più altri che non amavano la trasformazione rifiutarono di unirsi al branco degli uomini lupo iniziarono di nuovo a invecchiare e la tribù scoprì che anche gli uomini lupo sarebbero cresciuti come tutti gli altri se avessero rinunciato ai loro spiriti la vita di Taa Aki durò quanto quella di tre uomini dopo la morte delle prime due prese una terza moglie e in lei trovò la compagna migliore per il suo spirito aveva amato le altre ma per lei sentiva qualcosa di diverso decise di rinunciare al suo spirito di lupo per morire insieme a lei questo è il racconto di come la magia è giunta fino a noi ma non è la fine della storia poi guardò il vecchio Quillateara che si spostò sulla sedia raddrizzando le spalle fragili Billy beve da una bottiglia d'acqua e si asciugò la fronte Emily aveva trascritto senza sosta quella è la storia degli spiriti guerrieri cominciò il vecchio Quill con flebile voce tenorile questa è la storia del sacrificio della terza moglie molti anni dopo la rinuncia di Taa Aki lì al proprio spirito di lupo quando era ormai vecchio a nord ci furono problemi con la tribù dei Maka molte loro giovani erano scomparse e di ciò incolpavano i lupi verso i quali provavano paura e diffidenza quando assumevano le sembianze dell'animale gli uomini lupo potevano ancora leggersi nel pensiero proprio come i loro antenati facevano da spiriti sapevano che nessun di loro era colpevole di quel misfatto Taa Aki provò a rassenare il capo Maka ma la paura era troppa Taa Aki non voleva trovarsi in guerra non aveva più l'età per guidare la sua gente da guerriero incarnò il suo figlio lupo maggiore Taa Aki di trovare i veri colpevoli prima che iniziassero le ostilità Taa Aki guidò gli altri cinque uomini lupo del suo branco in missione sulle montagne in cerca di qualche indizio della Maka scomparse trovarono qualcosa di assolutamente nuovo per loro uno strano dolce odore nella foresta che bruciava il naso fino a far male mi strinse al fianco di Jacob vidi l'angolo della sua bocca contrarsi divertito e mi cinse con un braccio non sapevano quale creatura lasciasse un tale odore ma la seguirono continuò il vecchio Quilla la sua voce vibrante non aveva la stessa maestà di quella di Billy ma irradiava un tono oppressante strano e vigoroso con il ritmo del racconto aumentarono anche i battiti del mio cuore lungo il percorso trovarono deboli tracce di odore e sangue umani senz'altro era quello il nemico che stavano cercando il viaggio li aveva spinti così lontano verso nord che Taa Aki decise di rimandare indietro a metà del branco i tre lupi più giovani per riferire a Taa Aki ciò che aveva scoperto ma Taa Aki e i suoi due fratelli non fecero mai ritorno i fratelli minori cercarono quelli maggiori ma trovarono soltanto silenzio Taa Aki mise il lutto per i suoi figli avrebbe voluto vendicarne la morte ma era vecchio andò al campo dei Maka e gli raccontò tutto ciò che era accaduto il capo dei Maka credette al suo dolore e la tensione fra le due tribù finì un anno dopo una notte due fanciulle Maka scomparvero dalle loro case i Maka chiamarono subito i lupi Kiliut che riconobbero nel villaggio lo stesso odore dolce sentito nella foresta i lupi si misero di nuovo in caccia solo uno tornò vivo era Yaka Auta il figlio maggiore della terza moglie di Taa Aki e il più giovane del branco aveva portato con sé qualcosa che non si era mai visto in tutta la storia dei Kiliut uno strano cadavere duro come la pietra che aveva fatto a pezzi tutti i consanguini di Taa Aki anche coloro che non si erano mai trasformati in lupi sentivano l'odore penetrante di quella creatura senza vita ecco chi era il nemico dei Maka Yaka Auta raccontò cos'era accaduto lui e i suoi fratelli avevano sorpreso la creatura che aveva l'aspetto di un uomo ma era duro come una roccia con le due fanciulle Maka una delle ragazze era già morta diversa a terra pallida e dissanguata l'alta era intrappolata fra le braccia della creatura con la gola sotto la sua bocca forse era ancora viva quando sorpresero l'orrenda scena ma all'avvicinarsi dei lupi la creatura le spezzò subito il collo e ne gettò a terra il corpo inanimato le sue labbra bianche erano coperte di sangue e gli occhi emettevano un bagliore rosso Yaka Auta descrisse la forza maestosa e la velocità della creatura uno dei fratelli l'aveva sottovalutata e fu il primo a caderne vittima la creatura lo squarciò come una bambola Yaka Auta e gli altri furono più guardinghi si mossero insieme avvicinandosi alla creatura dai lati cercando di vincerla con l'astuzia avrebbero dovuto sfruttare fino al limite la loro forza e la velocità dei lupi come mai prima di allora la creatura era dura come la pietra e fredda come il ghiaccio scoprirono che solo con i denti avrebbero potuto ferirla mentre si battevano iniziarono a farla a brandelli strappandone la carne a morsi ma la creatura imprava velocemente e presto capì come contrattaccare mise le mani sul fratello di Yaka Auta Yaka Auta trovò un varco sulla gola della creatura le si scagliò contro con i denti le staccò la testa ma le sue mani non smettevano di stritolare il fratello Yaka Auta ridusse la creatura a brandelli nel disperato tentativo di salvarlo era troppo tardi per riuscirci ma alla fine ebbe la meglio sul mostro o così pensavamo tutti Yaka Auta fece esaminare dagli anziani i brandelli puzzolenti che aveva raccolto accanto al braccio di granito del mostro giaceva una mano staccata quando gli anziani iniziarono a tastarla con dei bastoncini i due monconi si toccarono e la mano si mosse verso il braccio cercando di riattaccarsi terrorizzati gli anziani diedero fuoco ai resti una grande nube di fumo intossicante nausea bondo abbelenò l'aria alla fine separarono le ceneri in tanti piccoli sacchetti e li sparpagliarono ovunque alcuni nell'oceano altri nella foresta o nelle grotte della scogliera Ta-Aki ne conservò uno e se lo legò al collo semmai la creatura avesse provato a ricomporsi di nuovo l'avrebbe saputo Quill Quill il vecchio fece una pausa e guardò Billy Billy mostrò il nastrino di cuoio che portava al collo da un'estremità penzolava un sacchetto scurito dal tempo qualcuno sussultò probabilmente lo fece anch'io lo chiamarono il freddo o il bevitore di sangue e vissero nel tormento che non fosse solo ormai era rimasto un solo lupo protettore il giovane Yahuta non dovettero aspettare a lungo per scoprire la verità il mostro aveva una compagna un'altra bevitrice di sangue che giunse nel villaggio dei Giliut in cerca di vendetta le nostre storie narrano che la fredda era la cosa più bella che occhi umani avessero mai visto quel giorno quando entrò nel villaggio sembrava la dea del mattino il sole che brillava come non mai faceva scintillare la sua pelle bianca e accendeva i capelli durati che riscindevano fino alle ginocchia il suo volto possedeva una bellezza magica gli occhi erano neri nel viso bianchissimo qualcuno vedendola cadde ai suoi piedi per adorarla lei chiese qualcosa con voce acuta penetrante in una lingua che nessuno comprendeva tutti restarono basiti non sapendo cosa rispondere fra i testimoni dell'evento non c'era nessun consanguigno di tahaki tranne un bambino si strinse a sua madre e gridò che l'odore gli faceva male al naso un anziano che si stava recando al consiglio lo udì e capì chi era giunto fra loro gridò alla gente di scappare fu il primo a essere ucciso in venti assistettero all'arrivo della fredda ne sopravvissero due solo perché tutto quel sangue la distrasse e la costrinse a placare la propria sete corsero da tahaki seduto in consiglio con gli altri anziani e i figli e la sua terza moglie non appena udì la notizia Yahuta si trasformò in spirito lupo si diresse da solo a distruggere la bevitrice di sangue tahaki la terza moglie i figli e gli anziani lo seguirono all'inizio non trovarono la creatura ma solo le tracce della sua carneficina c'erano cadaveri a brandelli alcuni prosciugati di tutto il sangue sparsi lungo la strada da dove era apparsa poi udirono le grida e corsero verso il golfo dove alcuni chiliut si erano rifugiati sulle barche lei li stava inseguendo in acqua nuotando come uno squalo sfondò una prua con forza incredibile mentre la barca affondava prese quelli che cercavano di fuggire a nuoto e straziò anche i loro corpi quando vide il grande lupo sulla spiaggia ignorò i fuggitivi nuotò così veloce che era difficile vederla e arrivò bagnata e trionfante davanti a Yauta lo indicò con il suo dito bianchissimo e gli fece un'altra domanda incomprensibile Yauta attese una dura battaglia come guerriera lei non voleva del suo compagno ma Yauta era solo non c'era nessuno a distrarre la furia della fredda Yauta fu sconfitto e Taha Aki iniziò a urlare in segno di sfida zoppicò in avanti e si trasformò in un lupo anziano dal muso bianco il lupo era vecchio ma era Taha Aki l'uomo spirito e la sua rabbia lo rendeva più forte la battaglia ricominciò la terza moglie di Taha Aki aveva appena visto il figlio morire ora suo marito stava lottando e lei sapeva che non c'erano speranze di vittoria aveva ascoltato ogni parola di ciò che i testimoni della carneficina aveva riportato al consiglio aveva sentito la storia della prima vittoria di Yauta e sapeva che era stato l'intervento di suo fratello a salvarlo la terza moglie prese un coltello dalla cintura di uno dei figli che le stavano accanto erano tutti ragazzi non ancora uomini e sapeva che sarebbero morti se il padre fosse stato sconfitto la terza moglie corse verso la fredda sollevando il pugnale la fredda sorrise distraendosi la fredda sorrise distraendosi appena dalla lotta contro il vecchio lupo non temeva la debole donna né il coltello che le avrebbe che non le avrebbe neppure graffiato la pelle era sul punto di sferare l'attacco mortale a Tahaki ma in quel momento la terza moglie fece qualcosa che la donna fredda non si aspettava cadde in ginocchio ai piedi della bevitrice di sangue e affondò il coltello nel proprio cuore il sangue scrosciò fra le dita della terza moglie e schizzò contro la fredda la bevitrice non resistette alla tentazione del sangue fresco istintivamente si girò verso la donna morente preda per un secondo della sua stessa sete i denti di Tahaki si serrarono sulla sua gola la lotta non era ancora finita ma ora Tahaki non era solo alla vista alla vista della madre morente due giovani figli provarono una rabbia enorme capace di dare vita al loro spirito lupo malgrado fossero solo ragazze insieme al padre finirono il mostro Tahaki non si riunì mai più alla tribù non riprese mai più le fattezze umane per un giorno intero restò sdraiato accanto al corpo della terza moglie ringhiando a chiunque cercasse di toccarla poi andò nella foresta e non tornò mai più da quel momento in poi gli scontri con i freddi capitarono di rado i figli di Tahaki vigilarono sulla tribù finché i loro figli furono grandi abbastanza da ereditarne il posto non si trasformarono mai in più di tre lupi alla volta erano abbastanza di tanto in tanto un bevitore di sangue attraversava questi territori ma veniva colto di sorpresa non sapendo dei lupi a volte un lupo moriva ma non furono mai più decimati come era accaduto la prima volta avevano imparato a combattere i freddi e si erano tramandati tale conoscenza di lupo in lupo da mente a mente da spirito a spirito di padre in figlio il tempo trascorse e i discendenti di Tahaki non si trasformarono più in lupi raggiunta l'età adulta i lupi sarebbero tornati soltanto in caso di necessità nel caso in cui un freddo si fosse avvicinato di nuovo i freddi giunsero sempre da soli o in due e il branco restò piccolo giunse una congrega più grande e i vostri bisnonni si prepararono a combatterla ma il capo dei nuovi venuti parlò a Efraim Black con i modi di un uomo e gli giurò di non voler fare del male ai chiliut i suoi strani occhi gialli in qualche modo provavano ciò che diceva Efraim lui era diverso dagli altri bevitori di sangue i lupi erano in svantaggio numerico non aveva senso che i freddi cercassero una tregua quando avrebbero potuto vincerli Efraim accettò i freddi hanno sempre rispettato il patto benché la loro presenza tenda ad attirarne altri e il loro numero ha indotto il branco a ingrandirsi quanto mai prima disse il vecchio Quill e per un attimo i suoi occhi neri sepolti in una cornice di rughe sembrarono soffermarsi su di me eccetto ovviamente che all'epoca di Tahaki disse perciò oggi i figli della nostra tibù portano di nuovo il fardello e condividono il sacrificio che i loro padri hanno sopportato prima di loro per un momento interminabile rimase tutto in silenzio i discendenti della leggenda e della magia si fissarono l'un l'altro attraverso il fuoco con la tristezza negli occhi tutti tranne uno fardello schermi a bassa voce secondo me è una figata il labbro pieno di Quill si gonfiò in un broncio dall'altra parte del fuoco morente set clear water gli occhipini di adulazione per la fratellanza dei protettori della tribù annuì il proprio consenso billy ridacchio piano e a lungo e la magia sembra dissolversi nella braccia scintillante all'improvviso era di nuovo un cerchio di amici Jared tirò un sassolino a Quill e tutti risero dal suo spavento iniziò un chiacchiericcio sommesso scherzoso e informale gli occhi di lì a clear water non si aprirono mi pareva di vedere qualcosa scintillare per un istante sulla sua guancia forse una lacrima né io né Jacob parlammo era immobile accanto a me il respiro tanto profondo e regolare che pensai stesse per addormentarsi la mia mente era lontana mille anni non pensavo a Yahuta o agli altri lupi oppure alla bellissima fredda che potevo immaginare fin troppo facilmente no pensavo a qualcuno che era totalmente al di fuori della magia cercavo di immaginare il viso della donna senza nome che aveva salvato l'intera tribù la terza moglie solo una donna umana senza doni né poteri speciali fisicamente più debole e lenta di qualunque altro mostro della storia ma era stata lei la chiave la soluzione aveva salvato il marito e i suoi giovani figli la tribù avrei voluto conoscere il suo nome qualcosa mi scosse il braccio forza Bells mi disse Jacob all'orecchio siamo arrivati strettai gli occhi confusa il fuoco era sparito fissai l'oscurità inaspettata cercando di dare un senso a ciò che mi circondava mi ci volle un po' per capire che non ero più sulla scogliera Jacob e io eravamo soli ancora avvolta dal suo braccio ma non più seduta a terra come ero finita nella macchina di Jacob oh merda protestai quando capì di essermi addormentata che ore sono merda dov'è con lo stupido telefono mi toccai le tasche nel panico facile ma ne ancora mezzanotte l'ho già chiamato io guarda ti sta aspettando lì mezzanotte ripetei come una stupida ancora disorientata fissai nell'oscurità e il cuore sussultò quando riconobbi la sagoma della Volvo 30 metri più avanti cerchai la maniglia della portiera ecco qua disse Jacob infilandomi qualcosa in mano il cellulare hai chiamato tu Edward per me i miei occhi si erano ambientati abbastanza da vedere il bagliore luminoso del sorriso di Jacob ho pensato che se mi comporti in modo carino potrò passare più tempo con te grazie Jake dissi commossa davvero grazie e grazie anche per avermi invitato stanotte è stato le parole mi mancavano caspita è stato unico e non hai nemmeno resistito per vedermi mangiare la mucca rise non mi fa piacere che tu sia stata bene aspetta scusa no mi fa piacere che tu sia stata bene è stato bello per me averti qui ci fu un movimento nel buio a distanza qualcosa di chiaro si mosse come un aspetto contro gli alberi neri camminava inquieto beh non è molto paziente vero disse Jacob notando che mi era distratta vai ora ma torna presto ok? certo Jake promisi e aprì la portiera scricchiolante l'aria fredda mi accarezzò le gambe e mi ficere a brividire darmi serena Bells non preoccuparti di niente ci sarò io a sorvegliarti stasera mi fermai con un piede per terra no Jake riposati io starò bene certo certo disse ma sembrava più una concessione che un accordo notte Jake grazie notte Bella sussurrò mentre mi allontanavo nel buio Edward mi prese sulla linea di confine Bella disse con forte sollievo nella voce le sue braccia si avvolsero strette attorno a me ciao scusa se ho fatto così tardi mi sono addormentata e lo so mi ha già spiegato Jacob si diresse alla macchina e lo seguì intorpidita e rigida sei stanca ti posso portare io sto bene meglio accompagnarti a casa e metterti a letto hai passato una bella serata si è stato davvero stupefacente Edward avrei voluto ci fossi anche tu non posso neanche spiegarlo il padre di Jake ci ha raccontato le vecchie leggende ed è stato come come una magia me le racconterai ma dopo un buon sonno non sarò in grado dissi poi feci un grosso sbadiglio Edward soghignò mi aprì la portiera mi fece entrare e mi passò la cintura di sicurezza attorno un paio di fari brillarono e ci passarono davanti salutai Jacob con un gesto ma forse non riuscì a vederlo quella notte dopo aver salutato Charlie che non mi fece tutti i problemi che mi aspettavo visto che Jacob aveva chiamato anche lui invece di buttarmi subito al letto restai appoggiata alla finestra aperta in attesa del ritorno di Edward l'aria era inaspettatamente fredda quasi invernale sulle scogliere ventose non l'avevo notato affatto più che al poco acceso forse era stato merito della vicinanza di Jacob gocce ghiacciate mi schizzarono sul viso mentre la pioggia iniziava a cadere era troppo buio per vedere alcunché accanto ai triangoli neri degli abeti che si slanciavano e andeggiavano al vento tesi comunque gli occhi in cerca di altri profili nella foresta una sagoma pallida che si muoveva come un fantasma nell'oscurità o magari i contorni scuri di un enorme lupo i miei occhi erano troppo stanchi poi senti un movimento nella notte proprio accanto a me Edward scivolò attraverso la finestra aperta con le mani più fredde della pioggia c'è Jacob fuori chiesi tremando quando Edward mi abbracciò si da qualche parte ed Esme sta tornando a casa fuori fuori piove fa freddo che stupidaggine tremai di nuovo sorrise fa freddo solo per te bella quella notte fece freddo anche nei miei sogni forse perché dormii fra le braccia di Edward sognai di essere dentro una tormenta con il vento che mi frustava i capelli sul viso e mi chiudeva gli occhi ero ferma sullo spuntone di roccia di First Beach cercando di riconoscere le forme che si muovevano veloci e che apparivano offuscate nell'oscurità sul limitare della costa all'inizio ci fu soltanto uno scintillio di nero e bianco che sfrecciavano l'uno verso l'altro e si allontanavano danzando poi come se a un tratto la luna fosse spuntata da dietro le nuvole viti tutto Rosalie con i capelli dorati e bagnati sciolti e lunghi fino alle ginocchia si era scagliata contro un enorme lupo con il pelo del muso maculato d'argento che riconobbi istintivamente come Billy Black iniziai a correre ma mi muovevo con la lentezza frustrante dei sogni cercai di urlare che si fermassero ma il vento spegneva la mia voce e dalla mia bocca non usciva neanche un suono agitai le braccia sperando di attirare l'attenzione qualcosa mi brillò nella mano destra e a un tratto notai che non era vuota reggevo una lama lunga e affilata antica d'argento d'argento incrostata di sangue secco e nero era brividi lasciando cadere il coltello e i miei occhi si aprirono di scatto nella mia stanza silenziosa e buia la prima cosa che notai fu che non ero sola mi girai per seppellire il mio viso nel petto di Edward il dolce odore della sua pelle avrebbe scacciato gli incubi meglio di qualunque altra cosa ti ho assogliato sussurrò senti un rumore di carta di pagine che si sgolcivano e un debole tonfo un qualcosa di leggero che cadeva sul pavimento no farfugliai sospirando di contentezza mentre le sue braccia mi stringevano ho fatto un brutto sogno ne vuoi parlare scorsi la testa sono troppo stanca magari domattina se me lo ricordo senti una risata silenziosa scuoterlo domani mattina a consentire cosa stavi leggendo bofionchiai non del tutto sveglia cime tempestose disse ingrespai la fronte mezza addormentata pensavo che non ti piacesse l'ho trovato in giro mormorò e la sua voce leggera mi culò verso l'incoscienza e poi più tempo trascorro con te più le emozioni umane mi sembrano comprensibili sto scoprendo di avere molto in comune ecco più di quanto credessi resi con un sospiro disse qualcos'altro a bassa voce ma a quel punto dormivo già il giorno dopo l'alba era grigio perla immobile eduardo mi chiese del mio sogno ma non riuscivo a venirne a capo ricordavo solo di aver sentito freddo e di essere stata contenta di risvegliarmi accanto a lui mi baciò tanto a lungo da mandarmi il cuore a mille poi si diresse a casa per cambiarsi e prendere l'auto mi vestii in fretta avevo poco tra cui scegliere chiunque avesse saccheggiato la mia cesta aveva spaiato il mio guardaroba in maniera irreparabile se non fossi stata terrorizzata mi sarei sentita parecchio infastidita mentre mi accengevo a scendere per la colazione notai la mia coppa sbrindellata di cime tempestose aperta sul pavimento dove eduardo l'aveva lasciata la notte precedente aperta su una pagina a mo' disegno come facevo sempre io la raccolsi incuriosita cercando di ricordare le sue parole aveva detto che adcliffe proprio lui gli era simpatico o qualcosa del genere non potevo crederci forse mi ero sognata tutto sulla pagina aperta tre parole attirarono la mia attenzione chi ne ha la testa per leggere il paragrafo più da vicino era atcliffe a parlare conoscevo bene quel personaggio ecco la differenza dei nostri sentimenti se lui fosse stato al posto mio e io al suo io l'avrei odiato di un odio che mi avrebbe avvenenato la vita come fiele pure non avrei mai levato una mano contro di lui mostrati incredula quanto ti pare e piace io non l'avrei mai privato della compagnia di Catherine finchè ella avesse mostrato di desiderare la sua non appena tale desiderio fosse cessato gli avrei strappato il cuore e bevuto il sangue ma prima d'allora oh tu non mi conosci prima d'allora sarei morto a goccia a goccia piuttosto che torcergli un capello le tre parole che avevano catturato la mia attenzione erano bevuto il sangue la brividì sì sicuramente solo in un sogno poteva aver udito Edward dire qualcosa di positivo su Edcliffe e forse non era neanche la pagina che stava leggendo cadendo si era aperto a caso di sicuro dai sto scherzando non volevo lasciarvi andare via così vi ringrazio innanzitutto per essere stati qui allora questa lettura è andata molto meglio mi sembra non ho visto la mentele intanto ringrazio Narco Barbie che ha scritto sono al lavoro e non posso ascoltare ti ascolto dopo in macchina grazie grazie mille a te grazie di essere passata di aver messo il commento grazie grazie davvero grazie a tutte le persone è stata una live molto lunga cioè in realtà lunga soltanto perché se sto vedendo quanto tempo è passato un'ora per me è volata questa live per me questa live è durata 20 minuti e invece ho letto per un'ora ed è stata anche tosta perché ho dovuto fare la voce di Bill che già era un po' poi quando ho letto adesso racconta il vecchio allora non volevo fare il vecchio incoglionito però non volevo neanche fare che ne so silente tipo 50 punti a Grifondoro quindi ho dovuto fare una voce un po' nel mezzo che mi stava massacrando però mi piaceva farla questo è uno dei miei capitoli preferiti in assoluto l'ho già detto mille volte Eclipse è il mio romanzo preferito è il mio romanzo preferito anche grazie a questo capitolo perché questo capitolo assieme ad un altro paio che poi vi racconterò quando saremo lì a leggerli assieme ne fanno una storia incredibile qui proprio la mitologia completa dei Kiliut che ci viene raccontata e per me è un capitolo stupendo e spero che sia piaciuto tanto anche a voi detto questo vi saluto ciao Yuki buonanotte anche a te ciao Merilu di Biasi che scrive tu sempre bravissimo troppo gentile grazie grazie davvero è stato bello vi auguro una buonanotte e noi ci vediamo in un'altra live domani sera non so se vado in live perché devo fare devo registrare il podcast quindi però magari mi salta e devo farlo tipo devo fare lo switch tra mercoledì e giovedì quindi voi rimanete sintonizzati vi ricordo che c'è il canale telegram che è il posto dove io comunico tutto potete entrare sul canale telegram cercando il link da qualche parte nella descrizione vabbè detto questo vi ringrazio davvero per essere stati con me vi auguro una buonanotte ciao oh 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 Grazie a tutti.